buongiorno ragazzi mi raccomando stasera live alle vintu alle vintidue e trenta diremo delle cose mh suotri a una live con Alessandro G la prossima sarà con l'avvocato Pier con FM la prossima saremo tutti insieme agosto un mese particolare per svariati motivi per chi volesse sostenere il canale lo può fare gratis perché le live video saranno sempre aperte a tutti non saranno mai vincolate ad abbonamenti soprattutto gente che chiede abbonamenti per dirti che di calciatori che prendono appartamenti a Milano e che nemmeno l'Inter aveva fatto offerta eh se vi iscrivete gratis al canale a noi fa piacere a me fa piacere ma non regalo telefoni come qualcuno mi l'antava di regalare computer tv 60 pollici se ti iscrivevi al canale usano solo giochetti sport perché non hanno la minima competenza e qualità a prestare su YouTube e infatti quindi non regalo telefonini non regalo ipad niente ipad non regalo computer questo non è un acer ma è un'altra tipologia di computer non regalo nulla non metto in palio nulla non faccio vanna marchi ecco non non mi muovo in maniera sporca perché tanto quello è un giochino e dura poco quindi stasera live ventidue e trenta iscrivetevi e condividete la live di stasera è importante provare per credere chissà come mai incominciamo con la nostra juventus con la loro sì con la nostra con la loro juventus la juventus ancora è senza sponsor quindi dopo la bocciatura dello stato per un discorso d'immagine la juventus ad oggi non ha uno sponsor non riesce a trovare uno sponsor e molti non si spiegano perché io ho una mia idea condivisa anche un'altra persone e che a sua volta avevano un'idea paritetica alla mia ovvero sia che eh a livello di immagine come aveva problemi diciamo lo stato italiano a sponsorizzare la juventus tra virgolette con i timeways perché è un'azienda statale azienda del governo secondo me potrebbe uso il condizionale non lo so è una mia impressione potrebbe avere problemi a sponsorizzare una squadra di calcio e deve affrontare un processo pesantissimo a livello penale processo prisma dove le accuse sono altrettanto pesanti a giotaggio falso in bilancio eh e chi più ne ha più ne metta quindi magari uno prima di fare sponsor alla juventus ci pensa ripeto una mia supposizione posso sbagliarmi ma a quanto pare la juventus non ha mai durato così tanta fatica per trovare uno sponsor quello ti deve far pensare per il discorso del loro brand che ormai la juventus è un brand di seconda terza fascia non c'entra nulla il fatturato non c'entra nulla lo stadio di proprietà dall'altro poi faremo anche una live sulla juventus vi racconteremo la storia di come la juventus ha costruito lo stadio di come ha preso il terreno con documentazione alla mano eh senza fare nessuna tipologia di illazione vi racconteremo come la juventus ha costruito lo stadio in questo paese quanto ha pagato il terreno come ha avuto il terreno vi racconteremo tutto con effenberg e l'avvocato pier insieme alla live eh calciopoli processo prisma eh dura fatia perché secondo me aspettano per capire cosa succede perché giustizia sportiva è finito tutto a taralluce e vino ma non è detto e finisca tutto a taralluce e vino nel processo prisma perché c'è la signora marilungo eh che davanti al pm dice mi volevano far filmare un bilancio che consob mi stava dicendo che era un bilancio che non stava né in piedi né in terra infatti la consob si è costituita parte l'esa insieme a un'altra società di cui non ricordo mai il nome che detieneva le azioni della juventus quindi vedremo lato juve messo da una parte quanto mi piace parlare con voi ragazzi mi diverto troppo lato napoli andiamo a parrucca il nostro parrucca tanto decantato da molti tifosi del niter che fino a che non ha avuto tutti i sette milioni di buonuscita non è scappato dopo e capì che gli vendevano lukaku e hachimi perché con lukaku e hachimi la faccio anche una scuola di calcio faccio portiere dai la palla da hachimi hachimi la porta su lukaku lukaku di 4 5 anni fa eh non il lukaku di ora lukaku di ora è il cugino di quel lukaku là davi la palla e ci pensava lui con lukaku e lautaro scusami eh in serie a lukaku e lautaro di 4 anni fa scusa con la juventus di pirlo napoli di gattuso che tra l'altro il napoli di gattuso ci buttò fuori dalla coppa italia quindi conte è un allenatore secondo me che ha sempre avuto pochissimo rispetto per chi ha allenato per i presidenti che lo pagano e soprattutto per i tifosi innanzitutto quando lui dice mi scuso con tutta la città di napoli sbaglia perché non tutta napoli è tifosa del napoli anzi ci sono anche dei napoletani che godono caro parrucca a vederti a gambe all'aria tra l'altro poi stai dipingendo davanti a davanti diciamo ai media vuoi far capire e hai una squadra di merda ma non è vero non hai una squadraccia così come la dipingi te caro parrucca perché non è vero non hai una squadra che deve prendere 3 gol dal verona parrucca stai piangendo come sempre fatto e stai demotivando i giocatori che hai perché da quando sei arrivato e chiedi altri giocatori e i giocatori e ci sono sentendo che te ne vorresti altri al loro posto la gamba per ti e o ce la mettono cara parrucca ma te sei rimasto a 30 anni fa il calcio si è evoluto che a livello tattico hai fatto la stessa cosa che ha fatto murigno sei lo stesso e identico allenatore e c'è chi lo paragona ad ancelotti ma non penso proprio perché se conte lo metti in uno spogliatoio di top player conte salta per aria dopo tre mesi non è adatto a gestire top player parlo a livello di personalità a livello caratteriale perché quei pochi top player che ha avuto ci ha sempre litigato vedi a celsi vedi a celsi non lo voleva più nessuno soprattutto i giocatori forti di personalità io dissi quando conta arrivò a napoli io dissi dura sei mesi con dell'aurentis perché finisce a rissa e sei sulla strada buona parrucca cioè non serve un genio per capire se chi ha gli altri giocatori dei motivi tuoi e quelli la gamba non la rischiano perché io farei uguale e continui a piangere ma questa è la strada giusta parrucca continua così perché ricordiamoci che al tottenham ti hanno dato 200 milioni di budget e ti hanno tirato i pomodori c'è stata una rivolta dei tifosi del tottenham per mandarti via gente disettava lo stadio per il calcio guardabile che proponevi con una squadra a 500 milioni finisco andiamo sul linter abbiamo visto il tridente l'altra l'altro giorno ok daremi duram e lautaro innanzitutto l'hai visto in un contesto particolare zaghi ha appena detto che lo può usare in caso di urgenza mi piace questa soluzione mi piace ma devi trovare equilibrio al centrocampo per fare il tridente deve avere i centrocampisti vanno a mille altrimenti rimani sbilanciato ma è successo contro genoa e soprattutto una cosa se non vai a mille le gambe non le girano bene sbilanci un po il centrocampo non riesce nemmeno ad arrivare davanti quindi nonostante l'inter abbia creato tantissimo contro i genoa me è piaciuta la squadra perché alla fin della fiera abbiamo lasciato due punti perché abbiamo regalato due gol l'unica cosa non ho capito di sommer perché il rigore lo rispinge centralmente e non lateralmente quella è l'unica cosa proprio che non riesco a capire dipendentemente dagli errori quindi ragazzi ci vediamo non so se farò un altro video oggi tranne che non esca fuori non so l'acquisto di palacios perché ragazzi decidiamoci a prenderlo almeno questo ragazzo l'avete inquadrato il budget è ok prendiamo intanto palacios a chiesa per ora io ci vedo poco fino a che non lo vedo non ci vedo soprattutto perché c'è qualcuno lo dà già fatto all'inter ciao